Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi vorrei fare vedere dei giochi che sono usciti in edicola I Monster Flex, la seconda serie Ce l'ho in una sacca perché in questi giorni mia mamma mi sta comprando quando torno da scuola Ok, mo lo apro Ragazzi, devo postare il telefono qua perché li sto aprendo Ecco fatto Il primo è lui Ed è il mostro di fango, guardate quanto è bello Io poi con questi giochi ci gioco a fare le storie Eccolo qua Un attimo con l'odore perché pure profumano un po' questi giochi Ah, un po' di pasta sembra di odore Poi il secondo è lui Però questo non è di questa serie Ed è la serie che è venuta prima Il Bigfoot, abominevole uomo dalle nevi Che non ha nemmeno gli occhi Eccolo E poi c'è neppure un altro dell'altra serie Solo che mo vi faccio vedere uno di queste serie Ed è lui, il pirata fantasma Odora un po' di gomma questo Un po' di più tra gli altri Poi L'altro, l'altro L'altro è il mio preferito Ed è il ninja rosso Ma guardate che bellezza Eppure lui Odora di gomma Scusate se nelle telecamere si vede molto Tipo arancione Molto chiaro Ma è molto rosso In realtà è di un rossiccio rosso Tipo beige, beige rosso Poi c'è il ninja blu Un altro mio preferito Eccolo Ninja rosso e ninja blu Si vede qua azzurro Ma in realtà è blu Poi Ce n'è un altro dell'altra serie Di questa serie Ed è il lupo Ecco Poi Qua c'è un altro mio preferito E' il mostro di slime Questi giocattoli hanno le sabbiette Le sabbiette Sentite Le maracas Le maracas Invece questo dentro è lo slime Per questo mi piace Guardate Guardate Eccolo qua Il mostro di slime Che si illumina pure il buio Ma ve lo faccio vedere Ma dopo un po' E' finita Ah no Mi pare che c'è l'ultimo Si C'è l'ultimo Ma non riesco A toglierlo Ragazzi Non esce Che cosa ci posso fare In questi giorni Mi è uscita Proprio questa Ragazzi E' lui Lo spaventapasseri L'uomo zucca Pipiri pipipipi Pipi Ecco qua Che bello Questa è tutta la serie Che ho finora Questi due sono Di un'altra serie Invece tutti i costi Di questa serie Di mo I miei preferiti Sono qua Ma vi faccio L'elenco Di tutti Disegnati Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Ed ecco qua Il primo Vuol dire Che il mio preferito Proprio primo 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 E' lui Mostro di slime Poi c'è il ninja rosso E poi il ninja blu Attaccati loro Poi ragazzi C'è lui Lo spaventapasseri Dopo di lui C'è il pirata fantasma Ragazzi Guardate Poi c'è il mostro Di fango Poi il big foot E' l'ultimo Quello che mi piace Di mano Il lupo Mannaro E questa è la cosa Che vi ho fatto vedere Ma vi voglio far vedere Come si illumina Questo Il buio Ragazzi Vedete Che un po' Si illumina Si lo vedete Che un po' Si illumina Sono il buio Ecco E contiene pure slime Domani vi farò Un video Dove Vi farò vedere Tutte le cose Che ho comprato Per il mio cane Perché tra due settimane Mi arriverà il cane Ho comprato Cuccio Trasportino Ciotole Tutto Ciao ragazzi E ricordatevi Di lasciare un bel pollicione In su E se non vi piace il video No pollicione Giù E su Poi iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Che è qua sopra Qua La campanellina E qua Da questa parte La campanellina E invece L'iscriviti E qua Ciao ragazzi Tic-tac.